Ehi! Ehi! Dove Fiddlestick? Dove è Fiddlestick? Porca tu! Dio di un jungler! Porca madonna di un Fiddlestick! Where are you Fiddlestick? Fiddlestick du figlio di puttana! No vabbè sta trollando ragazzi, questo sta trollando Ragazzi sta fucking legit trollando Fiddlestick E' un troll! E' un fucking troll! You're so fucking troll man! Non sei un brutto player, il master lo fai Ma un player che in competitivo ha vinto un titolo Per me non può deferirsi a un player bravo, mi dispiace Sei un player mediocre come lo è Fragola Come sono gli altri player, player mediocri di player forti in Italia ce ne sono 4 Nella storia o 5, nella storia dell'Italia di player forti ce ne sono stati 4 o 5 Jizuke, Shadow, Demon, Breeze Vanez, fine Forse Click Click 6 Sono 6 giocatori forti nella storia I giocatori che hanno vinto Paolo, apprezzo che stai cercando di fare l'intrattenitore e lo streamer Ma trattieniti per favore dal dire stronzate e falsa informazione Grazie mille! Perché qua poi le figure di merda le fai Perché ci sono le robe, ci sono i titoli scritti Hai vinto in un torneo nel 2014 contro di me Fine! Direi di fermarci qua Perché poi da in poi fino al 2019 non puoi più parlare Grazie Frank Evi del follow Grazie Hector del follow Grazie Crying Raid Grazie Grobi Grazie Woody per aver regalato a Paolo il sub Grazie Così impara a streamare magari Poi magari mi vede Tosanko al 500 bit Prima anche con Martina Prima in tutto Ecco il maestro Lo stai cercando di dirmi Tosanko Forse anche fin troppo decentemente Se continua a tirare le Q così a casa Breezebot, 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 Breezebot Breezebot, Breezebot Grazie Defe Sto arrivando ragazzi Ora arrivo a ringraziarvi tutti Un attimo Fatemi concentrare in lane in phase Perché devo anche evitare i minion e push Che cosa fa questo prodotto? Stimola delle parti del corpo Soprattutto del cervello E... E niente Se volete comprarle Puntescano di Vengage Io vado a fare lo shaker E torno subito Pensate ragazzi Facciamo così Che ne pensate ragazzi Facciamo alla vecchia maniera Che ne pensate ragazzi Facciamola da 1 Porco Dio le rune Dio porco le rune Devo fare ste cazzate Dio cani Porco Dio Ce li ho 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 Grazie Tadaz al follow Grazie Raffaele E Matthew Simone Finiamo sta partita E vogliamo e campiamo Perché prendere la lanterna vero? Perché prendere la lanterna vero? Perché prendere la lanterna vero? FF FF Non è inutile dare le kill a questi No Non voglio giocare Non voglio giocare Non voglio giocare con te Non mi Non mi Non mi Non mi Non mi Non mi Il game at all You guys are astro booster Non me ne frega un cazzo Sto che qua non Non deserve Un cazzo di niente Non deserve Un cazzo di niente Lo dico io che non Deservano un cazzo di niente Scrivania rotta Non posso più giocare Meno male che è l'ultimo giorno Forse domani non stream ragazzi Perché mi deve arrivare la streamania nuova Non posso giocare Ho distrutto l'ultima parte Di scrivania Sette viso Quindi non penso a qualcosa di grosso Ragazzi io non mi Paragono con persone Meno brave di me Questo non sia meglio Quindi Non lo conosco Non lo sa C'è una play di merda? No non è una play di merda Questa è una play vincente Una play di merda invece Play di merda perchè Mo Kay sta trollando Ecco la differenza tra me e gli altri player Ed ecco perchè ho strompato in competitivo Per tutti questi anni Ecco perchè ho rotto il culo in competitivo A tutti quanti Per anni e anni Eccola qua ragazzi Le palle di fare queste giocate Questa è la differenza Questa è la differenza E non voglio Non lo possono fixare il matchmaking Ragazzi Non è fixabile Ragazzi c'è un bug in corso comunque Io non ve lo voglio dire Ma c'è un bug Io ho cliccato assolutamente Nella maniera più totale Su Su cosa? Nella maniera più totale Flescia Flesciami le palle Flesciami il cazzo È morto sciacco Ma che le sciacco contro Sono sempre Faker intoccabili John Cena You can't see me Quando gioco Quando il mio sciacco Sembra l'annunzio Dio porco Porca madonna E' bianco Ciao Ave gamma Buongiorno Buongiorno Ura Buongiorno Ma che cazzo il discorso è mo? Che è una porta? Ma tu l'uglio, ti riesci a te sky? Eh? O dici sta qui a dare ca? Deve bloccare tutto? Ma che ho bannato? Vabbè, i bolletti non li fai Ci sono anche un sacco di viewers di Brits, ragazzi Vi faccio vedere un po' l'intentrimento Che tim di merda! Ma fa' culo! Giocano che schifo di merda! Magari li faccio ridere anche io Stanno a fare veramente il baron Vinciamo, vinciamo, vinciamo Penta qui Oh, bravo Bollibear Ehm, c'è 3 col 3? LOL Quadra Let's go Bravo Bollibear che si rubato il baron Sì, sì, bravo Bollibear Qua inibito Nella mia giota si sembra che vengo sbeffeggiato Mi dà fastidio, no? Anche perché Se mi provi a mettere i piedi in testa Ti calpesso prima io Arianna Poi non credo che moria nessuno là Ok Ciao Igor Paolo oggi è il giorno del mio compleanno Faccio esattamente 22 anni Ehi Ci credi? No Io ancora no Buonghi minore di 3 Aguri stellina Aguri Aguri Ciao Brits Ragazzi io non mi paragono con persone meno brave di me Mi paragono sempre con chi è meglio Quindi non lo conosco, non lo seguo Mi fa ridere fare questa cosa Perché chi segue Brits è molto fomentato Proprio come lui E quindi ha una fanbase molto diversa dalla mia E secondo me ha anche qualche player che approva il suo comportamento in game Che per me dà il resto Melo Can I pick for someone? Viego if you want Questa è la vita Questa è la vita Perché sbagli e impari E' proprio la vita Guarda schitti mi me ma anche Uno contro uno Per favore Better Io voglio la 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 schitti Adesso la chase of Vieni qua Sei troppo avanti Lo so ma io voglio kill la la schitti Morirai Voglio la schitti voglio No Perché ti aspettavi? Io scriverò xd Niente Sì Sì Grazie a tutti.